Puoi cambiare. Ora sto ingerendo... Puoi venire a venire. Ah, prima cosa vuoi per te? Hai un'idea che vuoi per te? Non puoi rimanere, è importante. Abbiamo spiace. Cosa vuoi per te? Aspetta un momento. Cosa vuoi per te? Cosa vuoi per te? Hai un'idea? Ok, guarda un momento a questa luce. Pensi cosa vuoi. Ok, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Schiaccia per il zero. Meno uno? Zero. Non è chiudo. Nei! Beno, mi poiché! Oggi Beno... Sì, ti prenderai. Vai dietro. No, tu tienila, passa dietro, non ce la fai, tienila, non metterla pure, ok, sollevo un attimino qua, vabbè, ok, tu sei, no, no, vabbè, facciamola, vogliamo anche qui, non c'è problema, no, no, ok, 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 Aiutami un attimo Mario, la portiamo un po' indietro, la solliviamo, prendila sotto le spalle, aspetta, aspetta, così, via, uno, due, tre, ok, ok, perfetto, così si può chiudere, Tu puoi uscire Muovi pure la camera, gira attorno, è una cosa intensa, ogni volta c'è qualcosa di diverso che succede Muovi pure la camera, è una cosa intensa, è molto bella, è molto intensa, Muovi pure la camera, è molto nulla, è molto difficile, è molto bella, è molto impegno, quindi potrino che succede Ok, io faccio un ruolo. Hola! Come ti sei? Sono ancora qui. Ok. È stato intensissimo. Sì, sì. Ok, mi aiuti Dario a tirare un po' su. A me aiutiamo, aiutiamo. La riusciamo. Dario, ok. Uno, due. Oh, 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 oh! Oh! Molto perfetto. Oh, mio Dio! Era un'attività che mi fa male. Non era molto... Sì, lo vedi, è molto veloce. E ho visto qualcosa molto forte con lui. Sì, è come la riuscita Kundalini. Sì, è come la riuscita Kundalini. La riuscita perché mi sento strano. E ho sentito che mi sentivo, come, mi stavo sentendo vivendo. Mi stavo sento sentire la vibrazione che mi sono dietro e le mie braccia che sono dietro. Sì, sento che questo tipo di lavoro, con l'elevatore... Grazie per la visione!